oggi sul bo live parliamo insieme a veronica raimo e marco rossari autori entrambi del libro le bambinacce uscito per feltrinelli ben arrivati la prima domanda è per marco la curiosità che sta dietro allo sfogliare questo libro è come nasce le bambinacce e perché tanto tempo che vorrei rispondere sinceramente a questa domanda che mi è stata già rivolta e finalmente posso farlo per pigrizia vorrei dire perché no avevamo scritto entrambi un romanzo pubblicato veronica con mondadori o con inaudi i romanzi ti sfiancano ti stancano sono faticosi avevamo voglia di giocare un po di divertirci l'improvviso nata questa idea di prendere questa forma un po in disuso un po abbandonata un po negletta che è la filastrocca e di rimetterla in circolo innestandovi una componente completamente diversa cioè quella dell'erotismo e disegnare questi profili scapestrati irrisolti divertenti comici sessuali di bambinacce quindi è nato così come un dialogo tra noi due per divertimento ma anche per provare a esercitare la scrittura in un altro campo diverso veronica che tipo di femminilità è quella che tu e marco rossari raccontate nelle bambinacce ma direi che è una femminilità innanzitutto transgenerazionale non sono ieri stavo parlando con una mia amica e non so è strano perché io adesso ho 41 anni quindi sono in quella soglia per cui appunto non ci si può più definire una ragazza cioè insomma si è entrati nel mondo dell'adultità ovviamente da tanto tempo però ci si avvia verso un altro mondo angosciante che quello dell'essere signore e stavo pensando che in realtà le bambinacce sono un po proprio questo un modo di essere che ti rimane dentro ma non che non significa essere bambine o infantili ma proprio avere una specie di tenacia anche nell'essere in un certo senso risolto non avere per forza degli obiettivi chiari e una specie di predeterminazione a raggiungerli non so per me una sorta di capacità di essere aderenti appunto a non tanto a dei modelli ma proprio a dei desideri che continuano ad essere scombinati anche dopo una certa soglia quindi una specie sì anche di anarchia del desiderio dei comportamenti e in questo per me cioè ritrovo appunto una femminilità più libera meno costretta che probabilmente poi non è soltanto una femminilità è un modo di essere. E come facevate a scrivere a quattro mani? Uno di voi scriveva alcune poesie l'altra altre oppure scrivevate davvero insieme? No di solito scrivevamo separatamente ognuno scriveva le proprie ce le rilanciavamo nel senso che a volte uno diceva ho avuto questa idea vorrei fare questa bambina la bambina domandona o la bambina pomiciona o qualcuno aveva sognato una cosa o voglia di parlare di un tema e quindi ci confrontavamo però di base ognuno si occupava delle proprie tanni in un unico fulgido esempio cioè la bambina che amava gli spigoli che è stata scritta un verso testa una dopo l'altro. Un'altra curiosità come è stato lavorare a questo progetto con a quattro mani e a quattro mani con un uomo per raccontare le bambinacce? E' stato molto bello anche anche molto nuovo nel senso quando poi abbiamo cominciato a lavorare a questo libro io e Marco ci conoscevamo in realtà pochissimo il che credo sia stato anche un bene perché hai in un certo senso insomma un'ansia di prestazione proprio perché hai a che fare una persona con cui non hai un'estrema confidenza dall'altro lato credo questo ci abbia dato anche un certo rigore proprio perché non ci conoscevamo così bene per cui nel senso secondo me ci ha portato ad essere in un certo senso più professionali non si poteva non so adagiarsi su appunto prima ancora che diventasse poi un progetto vero e proprio perché abbiamo deciso soltanto dopo che in effetti fosse un libro abbiamo provato così in maniera abbastanza scherzosa provare appunto a raccontare un tipo di femminilità diversa e però appunto forse se fossimo stati degli amici se ci fossimo conosciuti un po meglio di quanto effettivamente ci conoscevamo forse dopo due giorni avremmo interrotto questa cosa e invece siamo andati avanti e per me è stato interessante anche perché appunto avevo subito qualcuno con cui confrontarmi su quello che avevo scritto appunto scrivo una poesia sul porco spino in altre circostanze probabilmente ho detto vabbè ok questa cosa mettiamola da parte pensiamo alle cose serie tipo non so scrivere un romanzo a tradurre dei libri in quel caso avere una persona che stava giocando insieme a me a qualcosa mi faceva sentire anche più sicura di poter esplorare delle cose completamente astruse sarei arrivata forse da sola ma mi sarei forse anche imbarazzata di più di quanto poi potessi fare se un'altra persona mi riteneva credibile quello che stavo facendo. E un'altra curiosità sono bambine in realtà c'è anche un bambino ma sono prevalentemente bambinacce come ha influenzato quest'opera la presenza di un autore con una sensibilità maschile nel descrivere le bambinacce? È difficile da dire sì il bambino ho voluto mantenerlo io insomma volevo che ci fosse almeno un bambinaccio dentro questo gineceo chiamiamolo. L'idea di partenza in realtà era di fare un libro sì di neofemminismo partita molto da Veronica di neofemminismo scapestrato ironico comico diverso poco normativo ecco è stato bello però inserirci anche la mia sensibilità credo anche per me è stato bello introiettare il femminile entrerci dentro dialogare con Veronica trovare idee trovare spunti penso che sia necessario impellente anche che gli uomini entrino nel discorso femministe non ne siano esclusi proprio per assumerne le caratteristiche per per capire meglio l'universo femminile e anche di conseguenza quello maschile che è correlato alcune filastrocche sicuramente alcune bambine non le avrei mai potute scrivere se non avessi avuto Veronica come interlocutrice principale come lettrice implicita perché subito uno dei due leggeva le filastrocche dell'altro e questo creava naturalmente delle aspettative della competizione della seduzione anche e questo rendeva anche la cosa più divertente. Ma tra queste bambinacce che sono molteplici e tutte un po' bizzarre ce n'è una in particolare a cui sei affezionata? non so quella che amava i porcospini quella con la testa tra le nuvole quella che arriva su Marte cioè ce n'è una in particolare che ti è rimasta dentro che esprime qualcosa in particolare a cui tenevi? appunto citavi questa chiamava i porcospini che è una filastrocca talmente strampalata appunto c'è questa bambina che si innamora anche quasi sensualmente di un porcospino quindi non so una filastrocca un po' new weird direi e non so neanche bene come sei uscita fuori mi ricordo appunto che avevo visto, stavo al mare, ho visto questo porcospino e mi ero emozionata davvero come una bimbetta davanti a questa creaturina che poi in realtà non era un porcospino era un riccio però il porcospino è quello più grosso e più brutto però suonava meglio porcospino e non so è venuta fuori questa filastrocca strana che poi diventa un po' così anche metafisica onirica e ci sono affezionata perché veramente mi sembra assurdo averla scritta e che bello della scrittura quando insomma uno riesce ancora a sorprendersi di tirare fuori delle cose completamente assurde e che non sapessi di avere dentro, cioè non che non sapessi di avere dentro un amore per i porcospini però non avrei mai immaginato di scrivere una specie di filastrocca erotica new weird su una bambina che si innamorava di un porcospino e come mai avete scelto proprio il verso in rima cioè la filastrocca di partenza abbiamo pensato a un vecchio libro di tim barton il regista di beetlejuice edward mani di forbi c'è tanti altri film che si chiamava morte malinconica del bambino ostrica lui rendeva filastrocca e limerick anche molto e inseriva il tabù della morte poi abbiamo pensato anche ad altre cose le poesie ironiche divertentissime che scriveva alberto orbasino per laura betti una di queste si chiama la bambinaccia che da cui abbiamo rubato il titolo e quindi mi hanno detto perché non facciamo la stessa cosa questo gioco di rime di ecolalia di linguaggio infantile tutto quello che ti viene vietato ormai quando scrivi prosa perché devi evitare le rime interne devi evitare le ridondanze devi evitare tutte queste cose all'improvviso recuperare tutto questo armamentario come da una soffitta e rimetterlo come dei balocchi rimetterlo rimetterlo in gioco e così da lì è subito nata la prima filastrocca quella seconda la terza e al certo punto era diventata una specie di piacevolissima droga perché le parole spuntavano dimenticate neglette dall'infanzia come se fossero rimaste lì ad aspettare per tanto tempo a ritrovare le rime ritrovare i giochi le assonanze e da lì queste 55 filastrocche hanno preso vita e senti come mai il tema chiave alla fine sotto a tutto in qualche misura l'erotismo e poi perché l'erotismo in rima ma l'erotismo non so in realtà in questo in questo libro ma poi come credo anche nella vita è comunque una forma di conoscenza sia dell'altro dell'altra che del mondo insomma sono poi più che erotismo è un libro che ha molto a che fare appunto con tutta la sfera del desiderio di queste di queste bambinacce quindi appunto di queste donne di queste future donne e a che fare appunto anche con la sfera della potenzialità del divenire per me in questo senso poi sono anche erotiche perché comunque credo che l'erotismo sia sempre ad esempio una componente di potenzialità di divenire e che l'eros sia sempre in un certo senso trasformativo altrimenti è qualcosa di morto le rime sono venute in maniera abbastanza casuale cioè è stata scritta la prima quando appunto ci siamo detti proviamo a scrivere questo libro di bambinacce appunto non ribelli con un obiettivo preciso nel senso che mi devo ribellare perché devo ottenere questo dalla vita o voglio essere così perché so benissimo come voglio essere anche se la società mi nega il diritto a voler fare non so cosa io lotto con tutta me stessa alla fine ce la faccio per me appunto quest'idea di femminismo non è che sia proprio la mia idea di femminismo come se fosse una lotta di una donna contro il mondo per realizzare i suoi obiettivi pensavo diciamo che proviamo a fare questo libro di donne bambinacce scombinate sconclusionate ma insomma in un certo senso anche molto appassionate della vita e la prima è venuta è venuta in rima forse non so era talmente trambo e anche magmatico il progetto in sé che credo la rima ci abbia dato una struttura insomma anche un contenitore riuscire a creare questi mondi che però fossero da un punto di vista formale più limitati è stata una cosa inconsapevole poi il momento in cui è stata scritta la prima fila strocca abbiamo pensato beh sì è una stramba è proprio una forma narrativa che non avremmo mai immaginato e anche in questo caso la cosa bella era proprio usare uno strumento un dispositivo che non ci saremmo aspettati e qual è il pubblico delle bambinacce avete pensato ad un pubblico mentre scrivevate oppure no era un gioco solo tra di voi di partenza non pensavamo neanche di pubblicarle all'inizio era soltanto un divertimento tra di noi poi a un certo punto stai andando avanti viene domani diavolo qua c'è un libro potrebbe esserci un libro certo avevamo molto non eravamo così sicuri di trovare un editore disposto a un'operazione così particolare diversa ci piaceva molto fare un libro inedito davvero al momento in cui sono tutti affiliati alla religione del romanzo scrivere una cosa di fila strocca e poetica e allo stesso tempo anche in poetica nel senso di turpe sessuale desiderante questo ci divertiva molto però quanto al pubblico non avevamo un'idea precisa è molto strano non ho ancora avuto modo di chiacchierare con diciottenni poniamo che hanno letto questo libro abbiamo fatto un incontro alla scuola olden che è stato molto bello molto interessante allo stesso tempo in qualche occasione abbiamo abbiamo letto le filastrocche anche le più audaci e ad esempio in un caso è arrivata questa signora di 60 70 anni mi sono riconosciuta in tutto ha detto avevamo ne avevo letto di molto audaci spesso con le sessantottine se ne volo però come tutte le cose che scrivi hai un risultato sempre inaspettato non sai mai cosa cosa accadrà cosa risponde come risponderanno le persone che leggono secondo me è un libro aperto potrebbero leggere dovrebbero e dovrebbero leggere chiunque dovrebbe leggerlo anche gli uomini soprattutto la bambina che era sempre bagnata c'era una bambina che era sempre bagnata la mamma la stendeva al sole ma lei non si asciugava la metteva sotto sale per costringerla essiccare ma lei non si seccava anzi il sale si inzuppava provò a farla evaporare ma il vapore si addensava poi pioveva giù a cascata sulla bimba già bagnata tentò a tempo perso con l'asciugatrice itachi ma poi quella riemerse con gli arti tutti fradici la piazzò in penitenza davanti al fondo shiba e la sola conseguenza fu una bolletta depressiva l'abbandonò nel deserto in una giornata torrida e tra la sabbia arida spuntò una chiazza umida giunsero coyote abbranchi solo per abbeverarsi sbocciarono fiori bianchi sopra i cactus riarsi fumeta di pellegrinaggio l'incredibile miraggio la bimba accoglieva tutti nel prodigio dei suoi flutti orde e di assetati giovani vecchi fidanzati a chi chiedeva da bere la bimba leniva la sete ma se non volevi berla ti mollava una sberla